In una padella aggiungiamo un po' di olio extravergine d'oliva. Aggiungete la cipolla, quindi lasciatela colorire. Per 3 minuti aggiungete 125 g di polpa di pomodoro. Lasciate cuocere a fiamma bassa per 10 minuti insieme al proprio coperchio. A metà cottura aggiustate di sale. A parte lessate la pasta, io ne ho messa 180 g. Scolate la pasta e versatela nel condimento. Aggiungete 75 g di salame emiliano clay e 50 g di scamorza. Accendete la fiamma, quindi amalgamate per bene. Fate sciogliere per bene la scamorza. Grazie. Grazie. Grazie.